Da oggi è ufficialmente aperto il mercato, finalmente il DS Marino potrà sottoscrivere i contratti con i giocatori per legarle alla nuova Cosenza almeno fino al 30 giugno prossimo. I nomi che circolano sono tanti, partiamo da Varsi alla sinistra, Exaversa Normanna che pare abbia espresso piacere a vestire la maglia rosso-blu. Interessa anche il giovane portiere peschechera, ma la Vibonese sembra voglia riconfermarlo. Certo è che in lista resta in piedi anche Cutrupi, che nella scorsa stagione ha diveso bene la Porta dei Lupi. Per la difesa piace Amendola, ex Sant'Antonio Abate, centrale puro ma all'occorrenza potrebbe fare anche il terzino. Una conferma arriva invece per Filidoro che nel centenario calcherà di nuovo il terreno del San Vito. E' arrivata anche una richiesta da parte di Cappellacci per il centrocampo, si tratta del giovane Petrella. Per quanto riguarda invece il mercato dei big, per il centrocampo Paonessa dovrebbe ricevere la riconferma. A Cappellacci piacerebbe pure la Borragine. In difesa piace Manzo, ex Gelbison, Speranza e Ferrari. Possibilità anche per Sicignano che nella seconda parte del campionato ha fatto bene con Gagliarti. Si segue anche la pista Ginobili ex Montalto. In attacco, oltre a Mosciaro, Marino ha promesso ai tifosi un giocatore di spessore. Intanto si tratta per Vitale, lo scorso anno ha giocato alla Turris. Insomma, in questa schiera di nomi potrebbero esserci gli undici che formeranno lo squadrone a mazza campionato. C'è da ben sperare. Intanto, la data di ieri è stato il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione, corredata dalle relative fiduzioni e tasse. I club subiranno un punto di penalizzazione per ogni documento non pervenuto e dopo dieci giorni la Covisoc si pronuncerà. Poi entro il 16 luglio le società potranno presentare ricorso. Infine, il 19 luglio si riunirà il Consiglio federale che deciderà quali e quanti club saranno esclusi dalla Lega Pro. Per quanto riguarda i termini per la presentazione della domanda di ripescaggio, non c'è ancora una data ufficiale. La stessa verrà comunicata dagli organi federali probabilmente lo stesso giorno in cui si riunirà il Consiglio federale, ovvero il 19 luglio prossimo e la probabile data potrebbe essere tra il 26 luglio ed il 2 agosto 2013.